Infatti mi confondeva un sacco il fatto che c'era sta S alla fine di Fable Man Ma perché è un po' un false friend Ma Man al plurale dovrebbe essere Man, ma non è l'uomo delle favole Esatto, è un po' un false friend È il nome Fable Man Perché in realtà, Fable, adesso vado a cercare È la fiaba Ma non so se lo spalline è quello Sì, si scrive Fable, non Fable È vero, infatti io quando l'ho cercato, io scrivevo Fable, non scrivevo Fabel Ma comunque Fabel è in tedesco Fabel è in tedesco È in tedesco? Non lo so È tedesco, Fabel sono sicura Significa fiaba in tedesco Allora magari è quello Perché è un nome ebrei Perché loro comunque sono ebrei Sarà Fabelsman il cognome originale Fabelman, sì Man con due N In tedesco, cioè, avrebbe senso come etimologia della parola Fabelman Con due N Con due N finale, che vuol dire l'uomo delle favole O delle fiabe in realtà L'hanno messo una S perché loro sono più di uno e quindi ha detto No, per renderlo più inglese Sì, no, vabbè, molti cognomi tedeschi sono poi stati resi inglesi più simili all'inglese nel corso del tempo Io vorrei ringraziare comunque la mia prof di tedesco Ma ringraziamola perché io non sapevo questa cosa Mi stavo proprio chiedendo Ma è possibile che sono cascato in questo false friend In questa maniera così becera Invece no, in realtà c'è una logica La logica l'abbiamo appena spiegata Grazie Alice Zerre e grazie all'insegnante di tedesco di Alice Zerre Tra l'altro i personaggi sono ebrei Come Spielberg, ovviamente, la sua famiglia Sì, sì, sì E Fableman, da quello che ho capito Un cognome abbastanza tipico ebreo Anche perché molti cognomi ebrei, anglofoni O comunque di origine germanica Finiscono con men Tipo Goldman Globerman Questo bambino rimane talmente traumatizzato Che per esorcizzare questo trauma Ma che gli ha causato questa scena Perché comunque era una scena molto forte Degli effetti speciali all'epoca innovativi Tenta di riprodurre questo momento Con un trenino giocattolo Che gli regalano i genitori per Annucca E pian piano Effettivamente riesce a fare questo Sotto di filmino dello scontro del treno E così riesce a esorcizzare un po' questa paura Perché Sì, perché partiamo Quella è la premessa La premessa è che lui ha paura del cinema Raga, non si è mai visto Che un cazzo di bambino Ha paura di andare al cinema Con i genitori peraltro Di fianco a vedere un film Ha paura di andare al cinema Ha paura C'è la prima scena Che praticamente è 5 minuti Dove lui dice Ma non c'è mai stato No, cioè Sono troppo grandi Gli uomini proiettati Sullo schermo del cinema Mi fa troppa paura E poi la stanza è buia E io ho paura del Dai, ma vai a fanculo È un bambino Ma porco Diaz Ma non si è mai visto Ma che cazzo di bambino è Se l'ha inventato Cioè, era una roba Assolutamente inverosimile Non è una roba veritiera Cioè, lui che ha paura Non vuole andare al cinema Non si è mai visto Che bambino non vuole andare al cinema Dai, ragazzi, veramente Se non c'è mai stato Ci sta che Ma dai, ma no Ma quando cazzo mai È successo, dai Poi erano gli anni 50 La gente non era abituata Ma per favore L'unico crisi L'unico bambino Sulla faccia della terra Che non vuole andare al cinema Sono tutti estasiati Da questa cosa gigantesca Che proietta le immagini Super fighe E lui invece no Ha paura del buio No Le persone sono troppo grandi Dai, per favore Ma per favore Vabbè Questa è la prima cosa Partono gli insulti Questa è la prima cosa Che va assolutamente detta In questa trasmissione Perché non è veritiera Andiamo avanti Andiamo avanti Sono gli anni 50 Questo è un bambino Di 4, 5, 6 anni Che per la primissima volta Nella sua vita 5 minuti di scena Sai zitto Con suo padre Che gli dice Ah no, perché Ma non devi avere paura Perché il proiettore Vai, vai, vai E poi scena bellissima Perché dopo che hanno visto Questo film Ha letto i genitori Che parlano Prima di andare a dormire E sua mamma E sua papà Non capisco come mai Il nostro figlio Vuole far schiantare il treno Ha voluto Perché poi il bambino Lui vuole il treno Poi quando è arrivato il treno Lui lo fa schiantare Con una sua macchinina Che aveva Ovviamente non si capisce Il lasso temporale Che c'è tra Quando loro guardano il film A quando loro comprano il treno A quando lui poi lo fa schiantare Nella sua cameretta O insomma Nella stanza di casa loro Pochi giorni Sono Immagino Se ecco Pochi giorni Vale quello che sto per dire Cioè l'assurdità Che loro sono a letto E dicono Ma come mai Il nostro figlio Non capisco come mai Il nostro figlio Ha voluto far schiantare il treno Con la sua macchinina Ma non lo so Effettivamente è molto strana Questa cosa E poi ha un'illuminazione Sua madre Che ovviamente In questo film È psicotica Cioè ha dei problemi Molto seri Oserei dire Fatta recitare Overreacting In alcune scene Che non avevano senso Comunque Lo vedremo più avanti E in sua madre L'illuminazione dice Adesso ho capito perché Perché lui ha visto L'illuminazione Non è per quello Quindi ha voluto fare Adesso è chiaro Perché lui ha voluto Fa schiantare Hai capito Come si chiama il marito Bert Bert Hai capito Bert È per questo Oh mio dio Che cosa incredibile Ci voleva Cazzo Freud Per capire sta roba qua Dai ma per favore Andiamo avanti Ovviamente i genitori L'avevano già capito Ma non avevano capito Un cazzo di niente Lui voleva replicare la scena Non capivano il motivo Per cui voleva farlo La cosa del padre Non capisco perché Vuole far schiantare il treno Era riferito a Se sta cosa L'ha così colpito L'ha così spaventato Perché vuole riprodurre Beh non si capiva da quella scena Cercando addirittura Di rompere un treno Che probabilmente Avrà pagato Un trenino Che avrà pagato Non so quanti soldi Da quella scena Si capiva solo Che suo padre Era Era stupito Del fatto che Avesse comprato Un treno super figo A suo figlio E suo figlio L'ha voluto sfasciare E quindi suo padre diceva Perché Come è possibile Che io E infatti poi Gli lo dice pure al figlio Gli dice Delle cose che ami Te ne devi prendere cura Non le devi far schiantare Così e te le devi far rompere Chiaramente Palese Che lui non aveva capito Un cazzo di niente Dai Cioè dobbiamo stare 20 minuti a parlare Di sto cazzo di trenino Vabbè comunque Andiamo avanti Andiamo avanti Perché il trenino Allora Questo è un ottimo modo Per introdurre un po' Uno dei temi centrali Di questo film Cioè la differenza La dicotomia Diciamo tra i due genitori Tra i due genitori Praticamente Per il salto temporale C'è una roba Che non si capisce Che secondo me Non ha molto senso Che passa un anno E c'è un bambino Grosso come 5 angurie E' piombato in casa Una bambina in realtà Piombato in casa Improvvisamente Un anno indicativo Sarà stato un anno E 5 mesi Vi assicuro C'è quel bambino lì O era Non so Shaquille O'Neill Quando era piccolo O se no Non aveva senso Che quel bambino Avesse Dopo pochi mesi Ci sta in realtà Ma sai fuori Era gigante Cioè è passato un anno 9 mesi Lei è incinta Scusa Lei non sembrava incinta Quando La scena prima Un anno Sono 12 mesi Per fare un bambino Ce ne vogliono 9 Quindi vuol dire Che questo bambino Aveva almeno 3 mesi Almeno 3 mesi Fidati che 3 mesi Bastano Per essere così grandi Ma era gigante La madre fa l'ostetrica So di che parlo Con il bambino Era perfettamente normale Mio nipote Che è oversize Non è così grosso E ha 3 mesi Ok Almeno 3 mesi Poi sarà stato un anno E 5 mesi Sorvogliamo Lasciamogliela passare A Spielberg Oggi Oggi Ale vuole il mio odio Lui ha fatto anche Independence Day Lui ha fatto Independence Day Sì È il padre di Jeff Goldblum Lui è sempre Lui è come Spielberg Però come attore Cioè Spielberg È sempre uguale Come regista Lui è uguale come attore Qualunque cosa faccia In qualunque Un po' Un po' sopra le righe Un po' È sempre uguale Lui è sempre Il solito personaggio Una volta Gli dicono Che tu fai Il papà di quello Un'altra volta Il fratello di quell'altro Ma lui è sempre Lo stesso Cioè lui Lo vedi In Independence Day E lo vedi In questo film È sempre lui Non cambia assolutamente niente Boris Shieldkraut E queste sono delle cose Che trovo alienanti Per un attore Cioè il fatto di essere Sempre te stesso E non mutare mai Cioè tipo Prendi il pacino Al pacino Fa sempre il pacino In tutti i film Poi una volta Gli dicono che lui È il padrino Un'altra volta Gli dicono che È il detective Ma lui fa sempre Il pacino Non è che cambia Modo di recitare O modo di Cambia il personaggio Sono proprio gli attori Che rimangono incastrati Un po' Ma cazzi È alienante Cioè tu fai un attore Esattamente Per l'opportunità Opposto Cioè esattamente Per cambiare Tutte le volte Muta E metterti nei panni Di personaggi Sempre diversi E invece ci sono Attori che sono Sempre uguali In qualunque film Tu guardi Che senso ha? E questa è la stessa Critica che faccio A Spielberg È uguale Solo che da una parte Lo faccio per gli attori E dall'altra È uguale Il regista Fa la stessa Non puoi dirmi Che la filmografia Di Spielberg È tutto uguale Ti ricordo che ha fatto Schindler's List Allora Schindler's List Forse l'ho visto O forse no Non me lo ricordo Non me lo ricordo Non conosce Munich È quello con Banderas? No Non mi ricordo No non credo Comunque è un No non sono Un film Molto politico Allora Sui servizi segreti israeliani Non posso dire Contrasso con Non sono una Non ho visto Tutta la filmografia Di Spielberg Perché non sono Un grande fan di Spielberg Quindi Non posso Non posso sentenziare Però i film che ho visto Cazzo Sono tutti uguali Sono tutti uguali Identici Ma Munich Ancora di più Poi lì entra proprio Nel politico Fa una critica Molto Molto feroce Alla questione Israello-Palestinese No no ma Allora Io parlo proprio Dello stilema Del linguaggio Di Spielberg Cioè io Nel film che ho visto Che non sono tanti Però in quelli che ho visto Sono tutti uguali E così come Quando dico Che è al pacino Nel film che vedo È sempre al pacino Cioè Solo che una volta Dicono che è tizio No Dicono che è caio Ma lui Sempre lui Non è che recita diverso Ok Per dire Un attore Che invece Muta spesso Cioè una roba del genere Non lo dico per Leonardo Di Caprio Perché Leonardo Di Caprio A seconda del ruolo Fa Delle cose diverse Oppure Anthony Hopkins Non mi sento di dire La stessa cosa Per al pacino Ma anche per Banalmente Robert De Niro Cioè mi sembrano Attori Che non è che Non posso permettermi di dire Che non sono bravi Che non sono bravi Sono un po' Magari attori Incastrati In quei ruoli Che li hanno resi Molto famosi Quello Un po' è vero Però Nello specifico Di questo film Il personaggio Dello zio Secondo me Funziona Posso dire Una altra cosa Seth Roger Non mi piace Per niente Lui è un altro personaggio Che è sempre uguale In tutti i film Sì Seth Roger Posso darti ragione Su lui Non mi piace Per un cazzo Neanche a me Ma Vabbè A parte il personaggio Che è un po' odioso Sì Ma no Perché lui è Ha questo modo Di parlare Che è sempre uguale In qualunque Però se fa una scena In un film Un po' Dico idiota Un po' Come si dice Quella comicità Un po' Un po' leggera Barlocca Va bene Se invece lo fa Che il personaggio Di Benny Secondo me È un po' Un po' sprecato Nel senso Che è un personaggio Che non capisci mai Perché Stia così tanto Simpatico Alla famiglia Esatto A parte il fatto Che se la fa Con la madre No vabbè Terribile Veramente Per il resto È un personaggio Che sta lì Dice qualche battuta Neanche troppo divertente Non ho capito bene Il rapporto Che ha Col padre di Sam Perché Sarebbero colleghi Migliori amici Però in realtà Si malcagano Ci sono delle robe Veramente Che non hanno Sto film qua Che Anche quelle interazioni In cui vuole essere Simpatico In cui vuole essere Amichevole Secondo me Risultano molto Non so Io non mi capacito Di come questo film Possa essere candidato Agli Oscar Non sono d'accordo Dopotutto quello che abbiamo detto Come fai a dire una cosa del genere Ci sono delle criticità Come fai a non essere indignato Quando uno dei personaggi principali È uno come Seth Roger Che hai appena detto Non è uno dei personaggi principali È una merda Non si può dire Che questo film può andare A essere candidato agli Oscar Ragazzi Settimana prossima Guarderemo un altro film Candidato agli Oscar E speriamo Per amore di Dio Che ci sia qualcosa di interessante Candidato come miglior film C'è assurdo Miglior regia Ma dai Miglior regia per Steven Spielberg Miglior attrice protagonista Per Michelle Williams La madre di sempre Questo potrei anche accettarlo Miglior attore non protagonista Per Jude Hirsch Lo zio Che aveva un po' annusato In effetti Vedendo il film Vabbè Questo mi sa di performance Da migliore non protagonista Sì perché gli fa la speech Motivazionale per la sua esistenza Va bene Miglior colonna sonora Vabbè John Williams Ci mancherebbe altro Miglior scenografie Miglior sceneggiatura originale Di Tony Kushner Dai vabbè Come originale Ma è tratto dalla vita di Spielberg Vabbè Comunque Michelle Williams È candidata E anche Kate Blanchett Quindi se ci guardiamo Tar Possiamo avere un confronto Guardatevi The Fable Man Perché ne vale la pena Non guardatelo Non guardatelo C'è di meglio da fare nella vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti